cari figli oggi vi invito ad essere generosi nella rinuncia nel digiuno e nella preghiera per tutti coloro che sono nella prova e sono vostri fratelli e sorelle in modo particolare vi chiedo di pregare per i sacerdoti e tutti consacrati affinché con più ardore amino gesù affinché lo spirito santo riempia i loro cuori con la gioia affinché testimonino il cielo e i misteri celesti molte anime sono nel peccato perché non ci sono coloro che si sacrificano e pregano per la loro conversione io sono con voi e prego per voi perché i vostri cuori siano riempiti di gioia grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie a tutti